musica continuiamo praticamente i sono noi ci sono un bigano usci perdo ecco uuh perdo non ho visto Sto via! Nooo! Sale perro del mal! Maltrata di perro robottico Nincun perro lo ha tratato in questo video Qui sta il monolo IlUpiglio D'immagra Fighter Tu casi En apple Te Tyronino Escri白ają Publicid Publicidad Pagano il raiuto Come! No, poi ha entrato per la porta Maleducato il ninja E ora che? Terremoto Oh madre Los mineros, los mineros Volvieron in forma efficient No Qui? Carajo Toppen Me mataron Ah Jejeje Eh Me mataron Echo Sale Satanás Ahí si Toma Ah Que esa cuestión Que es eso? Ah Están instalando el mate Y esto querían que se lo pasara al niño de 5 años Le creían que gastaran un petro No se estaba Nintendo Pobre niño frustrado Pobre niño frustrado Ir jugando con 3 días Tu eras uno de esos Si Uh soy Matix Soy niño Que es eso? Sale maestro del demonio Que es eso? Como un pajarraco Como un pajarraco Como un pajarraco Como una cosa rara Ese es el único Oh que bueno el mismo Calmao Es dificil Corre Ah Abro Me mataron Me mataron Ok Calmao Me matan A ver Esta teche A ver Golpea a rayo Golpea a rayo Oh no No puede correr Como lo mato? Me quema la caer Jajaja Me quema la caer Jajaja Lo mato Que rabia Que rabia Falso lento Lo golpeas Jajaja Mira golpea rapido Me quema la caer Que rabia Unos 5 minutos mas Y te ganamos Unos 10 minutos mas Ganao ora quando colpe, hai colpato no, non servio no, non servio io non lo devo me quemo nato è che a poco è che a poco è che a poco ah, muero al divoneo sta listo qua puro giorgi agarri ora ah seldamo splint si te ha secuestrado grazie miro Tuve Alla che cosa dice No? Guarda ciò Guarda ciò Guardate ciò Guardate ciò Non è Colo È che Non Ah, tutto il gioco Ah, damn Sono strategico Ah, io che sape Ah, io che sape Oh, no, no Io lo sape, è divino Come va a avere un... come va a essere che sta lì 3 volte 4 volte Un error Un error Un errore D� Si stai Mi grafica Alla ¿Por que me l'estlocué tamí? Oh, ben Il potere di due potenti Io ti cuore Cuidado Mi chiede del sol E' loco Toma es Tojo, tojo, tojo SANTO EPICO Viene, non mi toco da nessuno Toma es Que onda SANTO Andate Cómo iría a pasar esto? Si es fácil Podríamos jugar un día el rey león O ese juego? No, pero no se compara el espíritu Ah si? Por qué va a acordar el rey león? No, tengo idea Pues esas bolitas raras Salían Salían unos ninjas Ninjas morados Una pizza hat Pizza hat Tu fey, puh Te la masasco aca puh Ah Están chelados del mate Si, pero Andes De dos Ya te copas ahí en el espíritu Toma 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 Bien Ah, dale la puerta Jajajaja Que es esa donde la vi fini Nunca la vi No dijo Tortuga No, no dijo Nos ofendió Tal, tal, tal Jajaja Están ch conductando Martinez Entonces ios non ne vieni guardate che riuscati vieni a poco vieni a te la pera wow che un malattro un malattro fegale pegale pegale a lo Splatter me corre lobo peggale 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 Ahhhh Pera Io vorrei a la fight Sono molto mortali Sì che Ganno uno a la direzione Ganno un po' un po' un po' un po' un po' un po' A ver se voleva fare la strategia Ora Pausò Si? Permiso Si? No mamà Alò viejita Bien com'è stato qui? Que bueno No marchaste ya? Mmm Te hago bien? Si A la once Mmm Te vienen a dejar o no? Te vienen a dejar? No 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 ojo calmo che mi patea maltrato tu tortuga si è che salìa nel 4 BC che salì a govo volando, guardai? salì a govo volando guardai? a govo ai pai stai tiritando, stai tiritando ah! es esta imagen salía en el mes hace tiempo, hace mucho tiempo como el eso se viente la pantalla gigante no me confundo no me acuerdo, me confunde creo que primero que jugaba en el mes esto juega un arcade jajajajajajajajaja Oh! Pfff! Calmao che non! Se puso Saiyajin Me quedano 10 credito Ehi se la monea Come stavamo! Ehi! 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 Es Schwader! Que pa carajo! Vol de Voldemort morado! Sale, me albuto sé! Voldemort na que! Jajaja Vada era un fan de Harry Potter Cómo dijiste eso! Estas tus tujitas Ese non ha casco Così che per questo Supongo questo No, perché dopo che le piggio un rato Se le cagò il casco Feroi anni Quindi lo original è che c'è il casco Toca al sapo Wow E' un po' di spara Se mi staspegando tutto a me Non ho, non ho, non ho Pagano pochi credito E' un po' di moneta E' un millonario Ese non ha casco E' un po' di che ha casco E' un po' di che ha casco E' un po' di 5 anni E' un po' di 10 No Eterna sti gastando moneta E' un po' di che Cosa Cosa E' un po' diяти E' un po' di tarpezza E' uno E' un po' di E' uno E' uno E' uno Foccio E' uno no no non lo so la stia la stia la stia è qui o no? calmato che è questo? oh tranquilo osea per matarlo è per voi un mystico epilogo no, calmato epilogo questo è il delle tortugas è il delle tortugas però è una cosa cerca di cranca cranca è come un cervello ah, è stato il fuoco bruciato per una serpiente dicembre dicembre e poi si fai dormire e sono felici sempre stuf è stato cortato il gioco alcuni parole si è stato buono il gioco è stato buono il gioco una critica un review di guachiturro no per la epoca è stato bene il gioco è stato buono è stato buono il gioco è stato buono il gioco è stato buono il gioco noi abbiamo parlato molto questo è stato buono il gioco anche per me è stato buono Musica... Musica Emi Izumi Emi Izumi Miki Chang Tomasi Maxumoto Maxumoto Grazie mille Emi In Hiaudio Inoue? Inoue Inoue Game Over Alguna... A ver 161 Hice mas, pero perdí mas Toma eso No tengo idea En la economia igual se fue el canal Eso seria Adios Chau